Ci stiamo preparando all'edizione dell'anno prossimo, ovvero il quindicesimo anno. Abbiamo fatto adottare molti gatti di razza stradale, è una manifestazione dedicata a gatti nobili e gatti randaggi. L'adozione dei randaggi è uno dei principali compiti che abbiamo, anche quest'anno tantissime le aziende sono intervenute e il record di pubblico di sempre più di 30.000 persone.